Occhio Ezio Azione Stop, facciamone subito un'altra Brava Alice, fammene un'altra così Siamo qui sul set del mostro della cripta Stiamo per girare delle scene emotivamente molto interessanti Abbiamo qui tutta la troupe Ovviamente tutti con le mascherine A distanza di sicurezza per la questione covid Poi abbiamo qui una delle star del film Arianna Bonardi Completamente carbonizzata Mi chiamano dal trucco Dimmi A lui pure lasciamo Tutti Mega sangue Carla Come mi ha risposto io Ma sono stati costati qua Ma sono stati costati qua E' meglio Dai, la posizione c'è La camera Quando voglio Stop Vai, vai, vai Aspetta, aspetta Vai Punta quello Vai Vai, vai, vai Rimani le schiena Rimani le schiena Rimani le schiena Vai giù Ci sono i blocchi? Un secondo per i blocchi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Insomma Inizial Stop!